Il nostro programma è praticamente un ottantesimo e l'ottavo intergruppo della zona 14. Incomincia il sabato, andremo a depositare delle corone di fiori alle lapidi dei caduti al monumento della frazione dei Masserini e Orezzo. Poi ci sarà la manifestazione alpina che incomincerà dall'ammassamento e ci troveremo tutti qui al monumento ai caduti di Gazaniga che rappresenta tutti i caduti, sia alpini che non alpini, delle guerre 15-18 e 40-45. Questo nella giornata di domenica? Nella giornata di domenica. Questa manifestazione comincerà verso le 9.15. Dopo l'inaugurazione del nostro cippo degli alpini, perché noi dovevamo fare un'insegna per gli alpini dal fatto che a Gazaniga ci sono monumenti, quattro monumenti, però un cippo degli alpini mancava. Pertanto io ho dato il benestare di fare questa cosa quando è stata proposta giustamente. È andata avanti e ora è finita, lo vedremo domenica prossima. Poi ci sarà la sfilata e il corteo che attraverserà tutte le vie del paese. Andremo a deporre una corona dall'oro al monumento ai caduti di Rova. Continuerà la sfilata fino all'oratorio di Gazaniga, dove la tenso struttura ci ospiterà. Celebriremo la Santa Messa con i diversi discorsi del vicepresidente, perché il presidente sezionale purtroppo dopo la donata di Bergamo vuole andare in vacanza e sarà sostituito dal vicepresidente Carlo Macalli. Lì dopo la Santa Messa, logicamente come fanno abitualmente gli alpini, ci riuniranno sotto la stessa struttura a mangiare e quattro canti e una giornata in allegria. Noi ci troviamo qui nei pressi della cava di Plaz, da cui è stato estratto in passato il marmo nero. Ci parli del marmo nero, che è una delle risorse più pregiate di Gazaniga, una delle pietre più utilizzate nelle chiese e nei palazzi. A noi fa particolarmente piacere il fatto che gli alpini abbiano riscoperto anche loro il marmo nero e abbiamo dato lustro ancora a questa attività, anche se chiusa ormai da 60 anni, recuperando i monoliti e applicandoli al monumento che verrà inaugurato tra poco. Il marmo nero in effetti è un simbolo per Gazaniga, è una storia che è partita verso il 1400 e si è chiusa solo nel 1960. Il marmo nero ha costituito per Gazaniga sia una risorsa economica importante, sia una risorsa a livello di arte, perché con questo marmo sono stati realizzati numerosi monumenti e le chiese di tutta la Bergamasca sono piene, si può dire, di marmo nero e non solo, ma di lavori fatti con il marmo nero da parte dell'aglio e dei manni, che sono i due principali artefici del lavoro di intarsio di questo marmo.